ciao a tutti sono francesco di outtake is made e voglio condividere con voi l'errore che c'è sulla mia smart tv samsung la serie 6 64 come vedete i video non parte nessuno compare tutto al momento nel possibile riprodurre questo titolo riprova più tardi su tutti i video questa è l'applicazione nativa di samsung che è installata sui tizen quindi non ho non sono dispositivi terze parti tutti i dispositivi tutti i video che provo ad avviare compaiono con questa con questa digitura non riesco a vedere neanche uno come ho provato diverse diversi video ho riprovato anche fare il test della rete come vedete adesso la velocità di connessione ci mette un po perché deve scaricare dei dati sono ovviamente tutti verdi la velocità di connessione e sono superiore agli standard dichiarati quindi sono sui sui 45 mega quindi vedete proprio non ho nessun problema di rete tra l'altro tutto il resto funziona a casa quindi tutto il resto è connesso gli altri applicativi streaming funzionano senza problemi quindi ho solo problemi solo ed esclusivamente con l'applicazione installata sui dispositivi samsung perché da smartphone da tablet da pc riesco ad accedere tranquillamente ho seguito tutte le procedure che ho trovato online sia quelle ufficiali quindi ho reinstallato l'applicazione ho ripristinato ho riavviato il router ho reinstallato l'applicazione quella su samsung tizen direttamente dallo store ho rifatto tutto come vedete adesso invece avviando la stessa applicazione l'applicazione preinstallata sulla mia amazon 5 stick non ho nessun problema riesco a partire tutti i video riescono a partire senza alcun problema dopo tempo di caricamento minimo vanno senza problemi come vedete il video è partito quindi non ho nessun problema del genere quindi non è un problema sul mio account qui vado anche a reinstallare l'applicazione che è preinstallata quindi non posso neanche eliminarla e reinstallarla ma faccio semplicemente una reinstallazione perché così mi è stato consigliato dal gruppo di supporto di samsung quindi come vedete ci mette un secondo per reinstallarla ma il risultato non cambia la riavvio sempre è rimasto collegato sempre il solito errore non so poi se avete delle soluzioni riproponete al me perché veramente non so che farme uso la fire stick netflix lo vedo lo stesso